Castellabate rientra tra i comuni destinatari del progetto nazionale spiagge sicure estate 2020 del Ministero dell'Interno che ha l'obiettivo di rafforzare i controlli durante il periodo di massima affluenza turistica e contrastare l'abusivismo commerciale e la contraffazione. Il comune di Castellabate ha ottenuto 32.000 euro che quest'anno, vista l'emergenza sanitaria, potranno essere utilizzati anche per potenziare i controlli nella verifica del rispetto delle misure di distanziamento anti-covid-19 sul territorio comunale. Il progetto prevede l'assunzione di personale di polizia locale, il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, l'acquisto di mezzi e di attrezzature e la promozione di campagne informative. Ciò consentirà all'ente di utilizzare tali fondi in vista dell'attuale stagione turistica nel periodo 1 luglio 30 settembre, attraverso il progetto e la sottoscrizione del protocollo d'intesa con la prefettura finalizzato all'attuazione. Un'ottima notizia, viste le difficoltà riscontrate dai piccoli comuni preposti al controllo delle norme in materia di tutela della salute, commenta il sindaco Costabile Spinelli. Il contributo ottenuto consentirà di integrare il servizio di controllo capillare che abbiamo finora sostenuto con ottimi risultati.